Nella giornata di ieri si è finalmente conclusa la telenovela e l'escrizione dopo le paure dei giorni scorsi. La dirigenza dell'Aquila ha comunicato sul sito del club l'avvenuta consegna di tutti i documenti per l'iscrizione al campionato. Ora si penserà al mercato, una sessione estiva che però rischia di essere ridimensionata rispetto alle scoppiettanti notti di mercato a cui aveva abituato l'Aquila e responsabile dell'area tecnica Ercole di Nicola negli anni scorsi. Questo perché la situazione economica del club, ma soprattutto dell'economia della zona, incide come. A questo va aggiunto il mancato raggiungimento dell'accordo con un'impresa romana e con due imprenditori aquilani che la scorsa settimana si erano fatti avanti per entrare in società. L'eventuale ingresso di nuovi soci avrebbe rimpolpato in maniera decisiva le casse, tutti i soldi da investire nel mercato. Invece nel giorno dell'apertura ufficiale della sessione estiva 2014 l'Aquila si ritrova con un budget limitato, forse anche più limitato di quello dell'anno scorso. Che fare quindi? La strategia del DS di Nicola è chiara. Si cercherà innanzitutto di piazzare i giocatori che non rientrano nei programmi per risparmiare sull'ingaggi. In queste ore a riguardo il Pisa sta trattando Nicola Ciotola, mentre la casertana sembra essersi fatta avanti per il centravanti Saveriano Infantino, che appena rientrato dopo il prestito alla Torres, assieme a Ciotola. Solo dopo essersi liberati anche dei vari Di Maio, Ripa e Improta, i Rosso-Blu cercheranno di piazzare altri colpi. Si pescherà ancora quasi certamente dalla Serie D. Poi l'obiettivo sarà di portare quanti più giovani possibile dalle primavere dei maggiori club italiani sulla scorta dell'esperimento riuscito lo scorso anno con Marco Frediani della Roma. Entro la fine del mercato si proverà poi a piazzare uno, massimo due colpi da 90. Di sicuro si farà quello in attacco, un centravanti di peso ed esperienza che potrebbe affiancare Claudio De Sousa nel reparto offensivo, in un ipotetico 4-4-2, oltre che nel classico 4-3-3. Pagliari, prima di partire per le vacanze, aveva appunto parlato di un campionato assai diverso, più competitivo, con retrocessioni e promozioni, soprattutto presupponendo per l'Aquila l'obiettivo della salvezza. Vista la situazione di mercato attuale, le rose che stanno allestendo Lecce, Salernitana, Ascoli e il neopromosso Matera di Auteri, è difficile darli torto. E in casa Teramo c'è grande attesa tra i tifosi per le prime ufficializzazioni di mercato. Da oggi con l'apertura della campagna trasferimenti, ogni giorno è buono per mettere nero su bianco con i giocatori segnalati a un passo dalla maglia bianco-rossa. I nomi più caldi sono quelli ormai noti da tempo, gli attaccanti Donnarumma e Nicastro, il centrocampista Madio e difensori per Rotta, Martella e Ferretti. Quest'ultimo di proprietà del Milan sarà oggetto di un colloquio che il DS Marcello Di Giuseppe avrà a Milano con la società rossonera nelle prossime ore. Oltre che Soujoar Ferretti, Di Giuseppe farà il punto della situazione con i dirigenti del Milan anche sul futuro del portiere Davide Narduzzo e di altri giovani che potrebbero interessare ai bianco-rossi. Proseguono anche i contatti telefonici tra Teramo e Trapani per decidere il destino dell'esterno siciliano Sassano. Al momento infatti non c'è ancora un accordo tra le due società sulla formula da stabilire per farlo tornare a Teramo. In uscita invece da registrare il sondaggio del Forlì per il terzino destro Eugenio Giannetti, ex primavera dell'Inter. Il difensore romano classe 93 è sotto contratto con il Teramo fino al 2015, ma è reduce da due stagioni nelle quali ha trovato pochissimo spazio.